Quanto è importante la collaborazione tra gli istituti cittadini e l'amministrazione comunale? Io la ritengo basilare, in questo senso ci siamo sempre mossi, soprattutto con l'Istituto Stadale d'Arte, ma anche con le altre scuole. Perché? Perché qualsiasi tipo di attività dell'amministrazione pubblica non può prescindere da quella che è la formazione di base dei cittadini in genere. Questi saranno i nostri prossimi cittadini. Coinvolgerli già da ora in progetti anche degni di nota come questo di questa mattina è assolutamente indispensabile. Il Comune sta ponendo attenzione ai diversamente abili e ha anche un nuovo progetto forse in cantiere, giusto? Corrisponde al vero. In effetti il Comune sta anche nel settore turistico prestando un occhio di particolare attenzione ai diversamente abili. Perché? Questo perché sono una parte importante della società e perché hanno diritto, come tutti, come giusto che sia, di poter godere delle bellezze del territorio. Stiamo pensando, in collaborazione con alcune associazioni e con la Confindustria Marche, di organizzare un qualcosa di estremamente significativo per il prossimo anno nel nostro Comune.